Questa si chiama la corona e qui piano piano fra 12 anni verrà riestrato di nuovo quindi sarà uno spessore così di sughero. Qua si vede più o meno questa parte di qui non è più sughero si chiama con un altro nome però questa prima parte di sughero dà la migliore qualità diciamo ecco poi sta al sugherificio selezionare le migliori partite le migliori chi c'ha l'occhio quelli che hanno il sugherificio ad esempio il nostro fornitore gli basta un'occhiata la verità e poi poi dopo ci sono anche tutti il resto dei controlli per il tca tutte queste cose qui però guarda anche la porosità qui non ce n'è ancora no questo ha due anni di vita tre anni tre anni di vita al decimo anno diventerà così grosso che alla fine sono cellule morte e niente verrà estratto con l'ascia piano piano anche quella è un'arte perché tu puoi guastare la pianta togliendo il sughero se tocchi la pianta la pianta muore gli alberi ci sono c'è solo un problema i portoghesi comandano quindi i più grossi comandano quindi cosa fanno arrivano qui in sardegna fanno il prezzo loro perché loro possono permettersi di fare il prezzo quindi un anno vogliono andare vogliono andarci sotto loro strappagano il sughero perché dicono quest'anno magari ce n'è tanto in sardegna che alziamo il prezzo ce lo prendiamo tutto noi e l'anno prossimo che ce n'è un po di meno magari quelli sono ancora convinti che si ha ancora quel prezzo e i sardi non estraggono i sardi non vendono ai sardi aspettano ancora i portoghesi che rifacciano il prezzo magari dopo cinque anni insomma anche quelli è tutto un casino una specie di mafia invece legato alla quantità cioè si diceva che no ma si comincia a scarseggiare no ma qui in sardegna l'unica cosa che possono farlo scarseggiare sono gli incendi perché ci sono un sacco di boschi cioè boschi di solo di sugherette e la qualità è estrema per un motivo c'è la pulizia dei boschi cioè non ci sono piante coperte dai rovi il pastore sardo ci tiene tanto alla 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 pulizia qui ci sono dei boschi pulitissimi cioè che tu devi andare lì adesso questa è una piantina minuscola minuscole anche giovane ma ci sono delle sugherette che cioè sono enormi sono delle sughere devi salire con la scala si deve arrampicare perché dicevi che questo non è più sughero perché man mano quella la la pianta cresce questo noi lo chiamiamo gardone adesso il termine tecnico in italiano non me lo ricordo però non è non è il sughero ha una porosità molto più larga invece il sughero ha una porosità perché la parte troppo alta della pianta esatto è una parte troppo alta quindi man mano che la pianta poi cresce adesso anche questo verrà tolto un domani verrà generato il nuovo nuovo sughero però questo adesso nemmeno si tocca